Il gruppo della guardia di finanza elettore annunziata ha dato esecuzione tra le province di Napoli e Salerno ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente di beni per un valore di oltre 400 mila euro nei confronti di una società di import export operante nel settore dell'imballaggio e confezionamento di genere alimentari con sede del comune di Sant'Antonio di Abate. La misura cautelare patrimoniale è stata emessa all'esito di approfonditi accertamenti di natura economico-finanziaria sviluppati dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia sotto il coordinamento della Procura della Repubblica dittore annunziata, avviate a seguito di un'attività fiscale che ha permesso di ricostruire a carico della citata società l'omesso versamento di ritenute certificate operate nei confronti dei dipendenti, configurando la fattispecie prevista e punita all'articolo 10 bis del decreto legislativo numero 74 del 2000. La condotta illecita emersa, oltre all'indebito il risparmio d'imposta, ha consentito all'impresa di collocarsi sul mercato in una posizione di rilievo nello specifico settore commerciale, distorcendo le regole della libera concorrenza. Il provvedimento ablativo eseguito ha portato al sequestro di 212.000 euro di partecipazioni azionali e societarie, di cui 15.300 euro di proprietà di una società olandese, e di 95.000 euro presso conti correnti per complessivi 307.000 euro nei confronti della società e del rappresentante legale. Grazie a tutti.